Daniele.tech, opinioni in open source Buon salve a tutti per questo dodicesimo episodio e stavolta abbiamo qualcosa di cui parlare anche rispetto a quello che vi avevo detto la scorsa puntata stavolta cominciamo subito parlando dell'internazionale in Italia ovvero, non so quanti di voi conoscono il team developers Italia o il cosiddetto team digitale io ne ho parlato la puntata precedente vi ho condiviso proprio la mia storia del podcast ovviamente parlo beh, siccome all'academy del 2019 a cui andai a Milano venne presentato da parte del team digitale il progetto Public Code che si tratta di un sistema per avere un catalogo di progetti fossa utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni ed è molto interessante perché è un catalogo che si popola controllando su Kithub praticamente la presenza di questo file quindi se andate sul sito ufficiale del catalogo voi potete vedere tutti quei software che sono validati per l'utilizzo nelle PA che sono ovviamente open source quindi rilasciati sia da comunità tipo LibreOffice oppure da comuni, aziende eccetera 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 ora, il progetto Gcompris che è seguito dalla comunità KDE principalmente è disponibile ora su Public Code perché questo sviluppatore, Contributor ha aggiunto questo file anche se lui non è italiano e ad oggi questo progetto Public Code non è utilizzato da altre pubbliche amministrazioni ma per un domani sì però ad oggi Gcompris che è uno strumento per insegnare ai bambini l'uso del computer è disponibile quindi chissà un domani forse ce lo troveremo nelle scuole cambiando completamente argomento ma rimanendo in Italia c'è questa notizia da parte di Italia Linux Society che è rimbalzata un po' ovunque ovvero questo risarcimento di 20.000 euro da parte di Lenovo perché un utente Linux comprò il portatile e non voleva la licenza BID con il portatile quindi voleva il rimborso e fece causa proprio e Lenovo è stata costretta a pagare 20.000 euro per la penale perché ha ricorso in appello e ovviamente aveva torto per vari motivi quindi leggetevi l'articolo non voglio entrare nelle discussioni però voglio darvi questa notizia perché probabilmente non l'avete vista il che è molto interessante però d'altro canto se noi vogliamo gestire queste cose bisogna sempre ricorre in tribunale che non è una cosa di tutti i giorni quindi l'altra opportunità secondo me è quella di prendere i portateli senza sistema operativo e ci si toglie il problema cosa che io faccio perché permette di vivere molto più liberamente senza questi problemi proprio a prescindere quindi da un certo punto di vista non capisco queste crociate perché dopo tutto sono i produttori che decidono cosa mettere TCC sopra perché se compriamo un router non è che prendiamo e facciamo causa perché c'è un altro software quindi è molto opinabile come cosa però è importante sottolinearla poi vi voglio condividere la newsletter di Guerra di Rete perché stavolta parla della discussione di Facebook in Australia praticamente ad oggi non è più possibile condividere link in Australia su Facebook per via di una causa legale perché vorrebbe che Facebook pagasse per ogni articolo condiviso questo ritorna un po' al cogetto della Google Tax o della Link Tax che è stata chiamata a molti modi principalmente quando ci furono le discussioni con il copyright ovvero col fatto che questi grandi portali estraggono non soltanto il titolo della pagina ma anche le prime righe dell'articolo e le pubblicano sul proprio rubano il contenuto che è sotto diritto d'autore e quindi da tempo si cerca di remare contro queste big che cercano di mangiarsi i soldi no i soldi diciamo i clienti perché se io leggo la notizia sul vostro sito che sono i primi righe e non apro il sito che è un po' il problema di Google News perché la gente può leggersi l'articolo completamente anche su Google News quindi poi non andrà sul mio sito dove ho IAZ ad esempio quindi c'è una perdita economica netta quindi vi lascio la newsletter che approfondisce un po' di più nel dettaglio però ecco la discussione è veramente importante dimostra che a questi big non gliene frega niente cosa che dimostra ancora una volta per chi non ci crede che è inutile stare a fare queste cose a livello legale perché loro se ne possono sbattere altamente perché tanto hanno altri modi per mantenere gli utenti sulla piattaforma quindi spesso il mondo legale di nuovo non ha ragione di fare certe cose sul mondo digitale però parlando sempre di questi big che fanno cose strane voglio parlarvi di questo link da parte dell'Electronic Frontier Foundation che riguarda YouTube o altri servizi di pubblicazione video perché c'è stato il caso di poliziotti che utilizzano musica col copyright quando vengono attaccati mi spiego meglio c'è questo video in cui dei YouTuber che da quello che ho capito è una cosa comune in America vanno a rompere le palle per usare il termine clinico qui me lo posso permettere di dire certe parole ai poliziotti e li filmano per metterli in castagna ora che poi fanno cose sbagliate eccetera non sta a me a discuterlo il fatto sta che questi poliziotti per evitare che questi video vengano condivisi su social network YouTube eccetera prendono i telefoni e mettono della musica con il copyright così in automatico YouTube o gli altri servizi prendono e tolgono il video perché non possono neanche ad esempio monetizzarli perché c'è della musica di sottofondo registrata secondo me è un modo buono che dimostra anche dall'altra parte il congetto degli algoritmi che fanno tutto in modo automatico e quindi è interessante notare come è fatto questo che può aprire tutta una serie di direi spunti interessanti su come usare gli algoritmi a proprio vantaggio degli utenti in questo caso di persone che stanno facendo il loro lavoro come ho detto non voglio entrare nelle bagarre politiche eccetera però è un dato di fatto molto interessante rimanendo sempre sul problema degli algoritmi di YouTube c'è questo caso che fa a me fa molto ridere perché negli scacchi non so se voi ci avete mai giocato esiste il bianco e il nero ora se uno dice il bianco attacca il nero il filtro di YouTube contro il razzismo prende e ti blocca il video cosa che è successa a un autore di video riguarda gli scacchi quindi da un punto di vista si pone il problema come fa un riconoscimento automatico a capire anche il contesto di certe parole perché non voglio che un domani vengano cambiati i termini del gioco dei scacchi che sono così da credo da prima dopo di Cristo come gioco per far contetti questi sistemi ed ovvio che fa molto il contesto come cosa in cui il sistema vive perché questo è uno dei tanti problemi che esistono ovvero di parole che a seconda del contesto hanno un altro senso e in italiano ne abbiamo di meno rispetto all'inglese ad esempio però è un problema effettivo come riconoscere ad esempio noi nel mondo per Common Voice che è uno dei progetti su cui potete contribuire basta che andate commonvoice.mozilla.org e donate la vostra voce per creare un dataset di dati in italiano testo e più audio ad esempio ci stiamo domandando come si leggono i numeri romani perché certi contesti sono ordinali e in altri contesti no e quindi come fa un software a riconoscere questo in base al contesto beh nel nostro caso non ci riguarda perché noi stiamo solo facendo un lavoro di lettura di questi dati quindi noi dobbiamo creare un modello che riesca a riconoscere il testo da un audio mentre poi c'è un altro software che fa il riconoscimento della lingua ovvero interpreta il testo e si occupa anche di fare queste cose quindi passando da sempre il concetto degli algoritmi che non funzionano bene sempre per via del contesto è questo ovvero Twitter ha bloccato un vescovo irlandese che parlava male dell'eutanasia io ovviamente dico parlava male è un critico perché ovviamente da un vescovo non sentirai mai parlare male ma vedrai dei comportamenti critici nel caso di un vescovo di un cardinale nel caso di un prete è probabilmente diverso per via del ruolo e non mi addentrano i dettagli io da cattolico cerco sempre di fare un ragionamento oggettivo in questo caso stiamo parlando del concetto che lui critica l'eutanasia e questa è libertà di opinione e non stiamo parlando di qualcuno che propugna il razzismo quindi sta soltanto condividendo un'opinione che potrebbe essere anche sull'aborto o su tutti altri algoritmi però lui parlava male del concetto di suicidio per tutta una serie di motivi che ovviamente da fedele sono sbagliati però il sistema d'algoritmo l'ha capito invece come qualcosa per promuovere il suicidio quindi in questa puntata abbiamo visto vari casi di algoritmi che funzionano in modo diverso a seconda del concetto e come sempre ci ritroviamo di fronte al problema del contesto perché le tecnologie ci sono però quello che vediamo nei film e si pensa degli algoritmi è completamente sbagliato perché sono fallaci l'uomo copervia della sua lingua del suo sociale eccetera dà a seconda del contesto molti significati che per un software sono ad oggi veramente difficili da capire e questo crea moltissimi problemi e l'abbiamo parlato anche credo due o tre settimane fa riguardo il caso di Terraria in cui il CEO ha deciso di togliere il suo videogioco Terraria da Google Stadia perché il suo account era fermo da due settimane e non poteva accedere aveva perso tutto da Google Drive all'email probabilmente a causa dell'algoritmo e nessuno l'aveva contattato in merito quindi da un certo punto di vista è vero gli algoritmi dopo tutto sono un programmatore semplificano la vita però non sono perfetti c'è stato troppo affidamento e nel caso dei big che devono gestire miliardi di dati perché questo è un dato di fatto ci sono interazioni ogni secondo che noi non possiamo immaginarci gli algoritmi semplificano molto la vita naturalmente l'ultima notizia è questo caso che riguarda il FOSDEM 2021 io sto piano piano recuperando le slide e talk che non ho seguite in diretta e ve ne voglio condividere uno che riguarda proprio l'Italia anche se in inglese riguarda il caso dell'ANAC con GlobalX GlobalX è un progetto per il whistleblow whistleblowing e secondo me anche questo è il problema principale per cui gli italiani non lo usano di tanto perché non sanno pronunciarlo anche se io parlo inglese e non riusciamo a trovare un alternativo in italiano anche se segnalatori d'allarme sulla falsariga del francese perché soffiatore di fischietto non rende è molto meglio ora noi sappiamo che l'ANAC è l'anticorruzione e il whistleblowing è un sistema per poter segnalare in modo anonimo quindi non è un classico portale con modo in cui mandi un email ma qualcosa di molto più avanzato perché si appoggia a tor eccetera per segnalare casi di corruzione o altro in modo completamente anonimo senza rivelare chi sei eccetera e per legge se non mi ricordo male da almeno un paio di anni tutte le PA si devono dotare di uno strumento del genere figuriamoci l'ANAC è GlobalX è un progetto open source utilizzato a livello mondiale che è sviluppato in Italia tra l'altro che serve proprio a questa cosa ora il progetto è in Python bla 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 ed è open source che è successo l'ANAC ha preso qualche anno fa e l'ha fatto un altro fork senza rilasciare le modifiche però la licenza che è in questo caso AGPL l'affero ti obbliga a rilasciare le modifiche del progetto open source e quindi loro sono andati in tribunale seguiti poi da due personaggi che Gallus e Piana che da tempo si occupano di legale in ambito software open source che potete seguire tramite social network hanno fatto questa causa insieme a GlobalX per obbligare l'ANAC a rilasciare il codice sorgente ora il video ha un po' di problemi a livello di audio le slide non lo trovate però si può seguire molto bene anche a velocità un po' aumentata per chi vuole fare prima e secondo me da sviluppatore la cosa più interessante da parte che devono rilasciare il codice è il dettaglio sul mondo javascript ora siccome è anche una parte javascript e progetto loro hanno modificato javascript e loro avevano rilasciato la maggior parte del codice ma non volevano rilasciare il codice di javascript demenificato mi spiego meglio javascript è un linguaggio che gira all'interno del browser ora javascript può pesare vari kilobyte perché è codice che viene preso e interpretato dal browser ora quando voi ne avete tanto è tanto materiale che lui deve scaricare ed elaborare quindi spesso quando avete dei siti che caricano è probabilmente perché sta scaricando tutte le varie risorse di cui ha bisogno per interpretare il codice e questo ci può mettere dei secondi specialmente da mobile in cui la situazione è molto peggio e quindi in ambito web sono nate delle tecnologie diciamo delle metodologie che si chiamano compressione e minificazione e compressione e minificazione possono andare molto a braccetto e cosa significa? beh noi abbiamo il codice javascript che è facilmente comprensibile dall'uomo dopo tutto è codice che lo sviluppatore scrive però è in chiaro nel senso che se io chiamo la variabile pippo quella la leggerò pippo anche se non sono sviluppatore perché il codice è in chiaro però se io sono una macchina se si chiama pippo o si chiama p la variabile cosa mi cambia? niente e quindi è nato il concetto di minificazione ovvero si prende tutto il codice javascript e si snellisce si snellisce tutto quel materiale che non serve alla macchina quindi le variabili diventano di una lettera le funzioni pure e poi si attacca tutto quanto insieme senza gli spazi perché ad una macchina non gliene frega niente all'uomo si perché deve poterlo leggere questo codice è cosiddetto minificato anche offuscato perché tu lo leggi puoi capire qualcosa ma non riesci a capirlo perché ti mancano tutti quegli aiuti che sono proprio le nomenclature dei oggetti e di tutto il codice e quindi si utilizza queste tecnologie minificate che spesso sono in modo automatico e servono a risparmiare centinaia di kilobyte in molti casi c'è il famoso caso di wikipedia che ottimizzando lo javascript e togliendo quello che non serviva ha guadagnato un tera di banda al mese o al giorno onestamente non mi ricordo però nel caso di wikipedia è eccezionale come raggiungimento diminuendo i kilobyte di javascript ora questo codice però come abbiamo detto è affuscato cioè nel senso che per quanto ho pensato se ovvero tu me lo rilasci così e io se ci voglio mettere le mani non ci capisco una cippa per usare un altro termine altamente tecnico e questo è contrario sorprendentemente alla licenza gpl ovvero ci sono due definizioni di codice sorgente che non sapevo ovvero c'è il codice sorgente puro pensato per gli uomini e l'object code che da quello che ho capito è la rappresentazione del codice stesso a livello legale e la minificazione risulta non source code ma object code quindi l'anac è stata costretta perché non voleva perché lei diceva questo è codice sorgente anche se è minificato ve lo pigliate così e loro ovviamente hanno detto no perché questo luogo non lo può capire quindi non è vero codice sorgente secondo la stessa licenza e questo per me è stato molto interessante perché sono quelle cose a cui non ci si pensa spesso siamo arrivati alla fine della puntata di questa settimana e come ho promesso nella scorsa puntata per essere precisi voglio parlare in coda di come contribuire a vari progetti open source a tempo zero è una domanda che spesso mi viene fatta perché io contribuisco a destra e manca soltanto che io sfrutto un po' il tempo a mia disposizione vi posso fare l'esempio di oggi per quello ho registrato la puntata un po' più in ritardo ho dovuto guidare andare da una parte a fare l'autista e cosa comportava questo che ho dovuto aspettare un'ora perché le persone finissero di fare le loro operazioni e se mi sono detto poi passo un'ora beh mi porto da leggere qualcosa e poi ho lo smartphone quindi ho preso lo smartphone e ho installato delle applicazioni di open street che già avevo in questo caso che si chiamano street complete e mapillari però forse voi non avete mai sentito di open street map open street è un progetto di wikimedia che comporta la realizzazione stile wikipedia delle mappe di tutto il mondo per me che sono nel centro Italia è un argomento molto sensibile perché quando ci fu il terremoto rieti e tutte le altre zone del centro Italia tipo amateci eccetera vennero mappate di corsa e molto nel dettaglio perché servivano ai soccorritori per trovare le cose perché quelle di google maps non sono precise e così nei dettagli se voi aprite il sito di open street map e cercate la vostra città rimarrete stupiti dal livello di dettaglio cioè potete vedere dove sono le fontanelle le panchine cioè il numero si è deciso delle panchine trovate delle cose incredibili per chi è curioso e queste mappe sono completamente libere quindi si possono fare quello che vuoi con queste mappe però queste mappe si popolano dagli utenti in vari modi naturalmente ora uno dei più semplici è proprio l'app street complete che è gratuita naturalmente basta l'account di open street map installandola vi troverete in un ambiente che può ricordare pokemon go ovvero avete la vostra cartina di dove siete quindi dell'abilitare gps e vi segnalerà nei dintorni i dati che mancano ovvero vi può dire della strada in cui avete lì vicino se è asfaltata se è mattonata eccetera oppure se è il palazzo che avete lì quanti piani ha oppure se c'è l'illuminazione se la strada ha due sensi che altro vi può dire vi dice se c'è una pista ciclabile lì vicino mi dice tutta una serie delle domande sul posto in cui state e piano piano voi potete partecipare direttamente dall'app quindi è una questione di un minuto ma anche meno perché voi premete sull'icongina lì di quel palazzo di quella via e vi chiede questa strada è al marciapiede su tutti i due sensi oppure su un uno voi rispondete in automatico il contributo verrà caricato su open street mappelle mappe poi si aggiorneranno con questi dati e questo è un modo di contribuire a tempo zero e questa app si chiama street complete per android e credo anche per ios ma lì non ne ho idea fate da voi e vi permette di contribuire letteralmente a tempo zero alle mappe della vostra città di altre quindi basta che vi rendete conto intorno a voi cosa manca io quindi ho popolato a seconda tipo c'ho un buco adesso devo aspettare questa persona vediamo un po' il tanto popolo questi dati questo è un modo semplicissimo per contribuire over street map e dalla prossima settimana ne vedremo altri nel caso di mapillari invece è una cosa completamente diversa mapillari è un'app per caricare foto dell'ambiente della via della strada inquistata e quel software automatico riconoscerà con riconoscimento visivo se ci sono dei cartelli e tutta un'altra serie di cose e popolerà poi open street map ovviamente si verrà notificati eccetera c'è anche l'app carta view che invece è molto più interessante perché guida molto noi siamo abituati a street view che è comodissima potete vedere i palazzi le vie e navigare la città ma come fare in un concetto pezzurso dove non è che ti puoi permettere una google car che gira tutto il mondo beh si utilizzano le persone che utilizzano il proprio telefono come navigatore e praticamente si installa quest'app si abilita la fotocamera si fa partire il video col gps se state usando il navigatore mettendola sul cruscotto e voi filmate il vostro viaggio in macchina questo viaggio in macchina quindi sta a voi decidere a seconda del vostro tempo eccetera come contribuire e migliorare non solo la vostra città paese eccetera l'Italia ma anche quando girate all'estero in altri posti e lo potete fare contribuendo in modo così semplice quindi per questa puntata abbiamo visto il mondo di open street map che è molto interessante io ho corretto anche delle strade ho messo più dettagli possono caricare le attività commerciali e tutta un'altra serie di cose però street complete vi permette di vedere un po' il vostro posto la zona eccetera di cosa ha bisogno e piano piano se uno prende interessato può scoprire sempre di più come partecipare e contribuire nel mondo open source e quello che vi ho detto richiede un minimo di conoscenza di inglese perché cartview e mapillari sono in inglese mentre street complete è in italiano e quindi voi lo potete fare anche se non avete grandi esperienze o altro detto questo vi saluto ci vediamo alla prossima puntata se avete richiesto suggerimenti come solito cercatemi sul mio sito daniele.tech trovate tutti i miei contatti social da mastodon a twitter facebook telegram matrix cioè non dico come potete venire a trovarmi sotto casa anche se adesso la strada è migliore perché l'ho migliorata sopra street map però ci manca poco però direi che ci vediamo in digitale per il momento sfortunatamente non possiamo vederci dal vivo per cause che ben sapete e ci vediamo alla prossima settimana ciao ciao